bella ciao ragazzi come va tutto bene e allora me ne sono accorti in questi giorni che la batteria diceva carica ma non era carica ho controllato il regolatore perché non è che tutti i giorni vai a guardare ed ecco qui il risultato amperaggio zero e la batteria oscilla 11 12 13 anche le punti di 14 e poi stacca il pannello ma non carica la batteria ora devo provvedere al cambio del regolatore perché questo qui mi scarica la batteria e basta ci aggiorniamo appena cambiato il regolatore vediamo se il regolatore o no ma io penso sia questo qui perché mi oscilla sull'amperaggio mi ascilla sul sui voltaggio grazie 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 grazie